benziato e' un codiodo perchè è un codiodo se vomito, se vomito mangi il mio vomito a stare di strada? si questo è quello che vuoi fare? questo sono io stiamo osservando fra mangiare non soffiare ma è che mangiare? soffiamo tutti insieme uno due tre ho detto 10.000 volte non soffiare in faccia soffiamo no chi è che toglie la macchetta da mano a mano? no no vai 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 ho paura stupida cioccolata ti guarda? perché è stupida? è stupida scorta mi guarda? mi guarda? mi guarda? mi guarda? questo è quello che mi ha macchiato di cioccolata io chiamerlo diarrea ma ora ma che fa il rumore del caffè? non ti piace proprio questo è il problema questo è una scalamellata le tante cacca di misura vedi effetti? questi sono effetti gravi mi ha scoccato le scappe un'altra volta era deficiente è mangiato tutto spaga tutto o lo vuoi? no t'ho detto uno dei fatti voi è michele kidder day kidder day kidder day non l'avete che? voi è kidder day kidder day kidder day kidder day kidder day pizzzamato quando sta fuoco con effetti gravi con effetti gravi come non te lo vede a fare volevo vedere come fai l'effetto grafico devi vederla ed ecco stupendo dai verso 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 non guardare ad ogni mobili mi lo so mi ha perso tutto aspetti gli amici mi dici chi fa! tu perchè tu non è gay? mauro vedi questo è spettacolare inclinare la non guardare in camera guardarmi come si fa a mettere pause e poi riprendere? non si può come no? no davvero sto per diventare un coniglio d'oro mangi i miei amici mangi i miei amici